credo che ci siamo ditemi quando devo partire se Filippo ci dà un ok ok bene signore e signori buongiorno e benvenuti a questo importante appuntamento in cui parleremo di privacy e di protezione dei dati l'occasione è data dalla presentazione della seconda edizione del volume di Nicola Fabiano GDPR privacy, consapevolezza e opportunità, l'approccio con il data protection e privacy relation model ovvero da primo, quindi parleremo di privacy, di protezione dei dati ma la vera novità è che il libro di Nicola Fabiano ci indica per la prima volta una strada nuova, un modo per quantificare anche se l'espressione forse non è propriamente corretta, il nostro percorso di compliance per verificare quanto la privacy pesi effettivamente. Questo evento avrebbe dovuto tenersi oggi pomeriggio presso il Consiglio nazionale forense che molto cortesemente con grande attenzione e sensibilità aveva dato l'ospitalità all'evento proprio nella propria sala purtroppo le ragioni di emergenza che tutti noi conosciamo e che hanno sconvolto le nostre vite, il nostro vivere quotidiano addirittura ci impediscono di essere presenti in quella magnifica sede e quindi facciamo tutto online ma vorrei presentarvi subito i nostri illustri ospiti Io vorrei iniziare innanzitutto con Nicola Fabiano che vedete in video e di cui vorrei sottolineare la particolare foggia della barba per la quale ho grandissima invidia Nicola Fabiano è un grande esperto di privacy ma lo dico con tutta la solennità del caso è il garante della privacy della Repubblica di San Marino quindi anche se la Repubblica di San Marino è un piccolo Stato noi siamo onorati di avere oggi qui Nicola Fabiano che rappresenta un'istituzione importante in ogni paese e il suo libro ci dà l'opportunità di discutere e approfondire questi temi con degli ospiti di particolare rilievo che vi presento velocemente sono l'avvocato Vincenzo Colarocco, l'avvocato Rocco Panetta e abbiamo poi due presenze importanti alle quali adesso darò immediatamente la parola che sono l'avvocato Carla Secchieri consigliere nazionale del Consiglio Nazionale Forense ma anche coordinatore della Commissione Privacy proprio del CSN e l'avvocato Carolina Scarano anche la consigliere nazionale del Consiglio Nazionale Forense e anche la membro della Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense quindi abbiamo un tavolo veramente ricco di competenze e con una equa rappresentazione di genere così non siamo sicuramente strani a qualunque attacco anche formale ma a parte gli schessi sono veramente lieto e onorato di dare intanto la parola all'avvocato Carla Secchieri e che assieme all'avvocato Scarano faranno un po' gli onori di casa come se oggi fossimo effettivamente presso la magnifica sede del Consiglio Nazionale Forense e quindi avvocato Carla Secchieri le do con molto piacere la parola e a lei il compito di dare il primo benvenuto a questo evento. Grazie. Porgo prima di tutto a tutti i relatori e anche i partecipanti il saluto della Presidenta del Consiglio Nazionale Forense e l'avvocato Maria Masi che oggi è impedita di partecipare per motivi istituzionali. Porgo anche i miei saluti personali come coordinatore della Commissione Privacy a tutti i relatori e soprattutto vorrei esprimere il mio ringraziamento a Nicola Fabiano per aver scelto il Consiglio Nazionale Forense per presentare il suo libro e credo che questo sia il risultato di un percorso che noi abbiamo fatto insieme. Ma i ringraziamenti e anche per aver radunato una platea di relatori così illustri e così importanti. Nicola Fabiano non è solo uno dei maggiori esperti di privacy o di protezione dei dati personali secondo la distinzione che lui ha sempre amato fare e che trovate anche nel suo libro ma è per me soprattutto un grande amico, un amico che mi ha avvicinata al mondo della protezione dei dati personali che io prima consideravo con un po' di distacco. Mi ha avvicinato e me l'ha fatto amare moltissimo. Mi ha sempre supportato, mi ha ispirato l'idea di un corso, di uno dei corsi che è stato uno dei fiori all'occhiello del Consiglio Nazionale Forense quando abbiamo cercato di dare una formazione tecnico-giuridica agli aspiranti di PO creando insieme un corso congiunto fra ingegneri e avvocati in modo da poter scambiare le informazioni e la formazione e raggiungere quindi un risultato completo per avvicinarsi a questa opera una nuova professione che avrebbe potuto costituire un campo di azione o comunque un nuovo sbocco professionale per molti avvocati. Ne abbiamo formati circa 180 e credo che questo sia un grande risultato anche perché mi risulta che tutti poi abbiano trovato la possibilità di mettere in pratica quello che hanno imparato. Nicola poi è sempre prodigo, io mi rivolgo a lui perché so che in tempo reale mi risponde ogni volta che ho bisogno di suggerimenti, di consigli e quindi devo dire che per me è un onore presentarlo proprio per quello che ha rappresentato per me e credo per tutti noi ma anche per quello che ha dato il Consiglio Nazionale Forense proprio in termini di saggezza e di opportunità. Mi fermo qui perché poi magari mi commuovo anche quindi Nicola grazie, grazie a tutti voi di essere presenti e vi auguro buon lavoro. Grazie a tutti. Grazie avvocato Secchieri anche per, come dire, per lo stato d'animo di amicizia, di grande stima che ha voluto esprimere e questo indica come in effetti tutti noi facciamo parte di una community che non è solo una community professionale è una community, io poi sono un impostore perché non sono neanche un avvocato, ne si è chiaro, ma è una community che è unita da un filo rosso importante che pone al centro la persona. Quindi io naturalmente nel tempo reale della rete accade anche questo che qualcuno ti suggerisca o ti dica dove hai sbagliato. ho già commesso il primo errore presentando lei, avvocato Secchieri e ponendola come membro del Consiglio Superiore della Magistratura cose che le augurerei con tutto il cuore, spero che sia un magnifico presaggio. Mi piace dove sono però, non hai più ospirazioni diverse. La ringrazio molto per le parole anche di attenzione per sul settore oltre che di stima per il nostro illustre ospite. Vorrei dare subito la parola all'avvocato Carolina Scarano, anche la consigliere nazionale del Consiglio Nazionale Forense e membro della Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense che è appunto una costola importante del Consiglio Nazionale Forense. Grazie. Sì, grazie. La fondazione è presieduta dall'avvocato Secchieri che è anche qui presente. Io non voglio fare più amica di Nicola Fabiano con Carla Secchieri, però lo siamo entrambe ed entrambe lo stimiamo. Io lo conosco purtroppo per entrambi da molti anni e ho sempre apprezzato l'altissima valenza scientifica del lavoro di Nicola. Mi ha onorato in un'altra occasione di essere presente alla presentazione di un suo libro e con molto piacere sono qui oggi a farvi compagnia perché visto il portere e l'alto livello dei relatori non posso certo spingermi a parlare tecnicamente dell'argomento, ma mi fa piacere stare con voi in questa occasione e soprattutto mi rammarico che non lo abbiamo potuto fare in presenza, ma stante il periodo è una delle tante cose a cui dobbiamo rinunciare. Sono convinta che comunque sarà un evento di grandissimo interesse e di grandissimo livello. L'unica cosa che voglio dire sul tema della privacy è che è un tema che coinvolge tutti noi, ma tutti i cittadini, quotidianamente ed ogni minuto della giornata. Ed è un tema che ha risvolti pesanti, ma risvolti anche molto interessanti. È da qui proprio il titolo di questo evento, opportunità. Dobbiamo partire appunto dalle opportunità che possiamo avere con l'evoluzione legislativa in materia. Ringrazio, non so, trago tempo agli illustri relatori, poi semmai c'è da intervenire dopo, se resta qualche minuto lo faremo volentieri. Grazie mille, grazie a Nicola. Bene, grazie avvocato Carolina Scarano. Io a questo punto entrerei direttamente nel merito e tirerei subito in ballo l'autore del volume, il garante Nicola Fabiano, spendendo due parole nel presentare il suo intervento e facendo esplicito riferimento ad alcuni aspetti, se Nicola Fabiano mi permette, che hanno a che fare con alcuni cambiamenti a cui stiamo assistendo e di cui siamo in un certo senso anche parte. Fino alla primavera del 2018, ovvero fino a poco prima che entrasse in vigore il GDPR, parlare di privacy era una cosa molto, non dico esoterica, ma insomma bisognava convincere le persone che si stava parlando di una cosa molto importante. Dopo Cambridge Analytica il mondo è cambiato, è letteralmente cambiato, si è fatta avanti una, come dire, una presa di visione, diciamo, e una consapevolezza in quel caso, di dire di quanto importanti siano i nostri dati personali. E poi nel libro, sfogliando le pagine di questo libro, si tocca con mano quanto l'idea del cambiamento sia radicata nelle cose di cui adesso parleremo. E quindi da una parte abbiamo la tecnologia che ogni giorno ci impone di correre e di apprendere modi nuovi con cui fare le cose e questa tecnologia però può essere anche a volte insidiosa nella modalità a volte sofisticata con cui aggredisce il settore dei nostri dati personali. e dall'altra c'è il diritto che è un po' lo strumento di difesa e la regolazione serve proprio per tutelare tutte le parti, innanzitutto quelle più deboli e di fronte a cotanta tecnologia il cittadino o il consumatore spesso è di una debolezza disarmante se non fosse protetto appunto dalle norme. e quindi il libro spazia in effetti Nicola Fabiano su tutto lo scibile del settore perché guarda la tecnologia e a tutti i cambiamenti che riguardano il nostro vivere quotidiano la blockchain, i big data, l'internet delle cose, i droni tutta roba che è ormai pervasiva in ogni aspetto della vita quotidiana. e ecco, io vorrei proprio partire da questa prima considerazione perché il libro fa riferimento alla consapevolezza e alle opportunità vorrei proprio che l'autore ci conducesse un po' per mano in questo processo di crescita della consapevolezza e in questa anche considerazione delle opportunità che abbiamo proprio per dare maggior qualità al nostro vivere quotidiano e per assicurare, diciamo, una godibilità della tecnologia che non sia insidiosa della persona ma che invece sia rispettosa. Ecco, vorrei che lei, Nicola Fabiano, ci prendesse un po' per mano e ci portasse tra le pagine di questo libro proprio per definire questo primo perimetro di gioco sul quale faremo poi intervenire sia Vincenzo Colarocco che Rocco Panetta. A lei la parola. Grazie, grazie, buonasera a tutti. Un ringraziamento sincero al Consiglio Nazionale Forense e in particolare al consigliere avvocato Carla Secchieri e alla consigliera Carolina Scarano per aver consentito la realizzazione di questo evento che come è stato già detto doveva essere organizzato in presenza quantomeno per i posti disponibili presso la sede del CNF poi a causa di questo DPCM di domenica scorsa sono repentinamente cambiate le situazioni anche sanitarie e quindi si è dovuto fare ricorso ad un evento online. Mi sento onorato di questa opportunità che mi è stata offerta dal Consiglio Nazionale Forense di poter partecipare a questa occasione di confronto insieme ad altri relatori di altissimo spessore e che comunque stimo. devo però precisare che in questo prestigioso contesto intervengo nella qualità di Presidente dell'Autorità per la protezione dei dati personali della Repubblica di San Marino e quindi a questo titolo porgo i saluti istituzionali da parte dell'autorità. Un'ulteriore precisazione, dopo aver presentato per la prima volta ai Capitani Reggenti della Repubblica Serenissima, ai Capi di Stato questo volume, questa è la prima occasione per presentare il libro in un contesto nazionale. Permettetemi di precisare subito che per consolidare il senso etico del mio lavoro ho deciso di devolvere un euro per ciascuna coppia venduta all'associazione AIFAN APS di Foggia questo a conferma del legame con il mio territorio di origine che è una realtà, questa associazione AIFAN APS è una realtà concretamente impegnata e attenta soprattutto alle fragilità dei più piccoli o ai piccoli più fragili dai quali però molto spesso si impara. Questa scelta ha anche un nesso con il contenuto del libro e soprattutto nel mio proposito di approfondire l'impatto delle tecnologie utilizzate nelle neuroscienze nelle neurobioscienze sulla protezione dei dati personali e sulla privacy. Premesso questo è precisato pure che ovviamente siamo in attesa dell'intervento autorevole del Garante Europeo che si collegherà a breve, più tardi vorrei spendere qualche parola sul titolo di questo evento poi per precisare dopo il senso di questo volume io faccio delle considerazioni che sono queste gli avvocati ma anche gli operatori giuridici in generale sono soliti avere un approccio molto tecnico individuando la norma o le leggi per definire un caso specifico l'approccio si basa in primo luogo sulla focalizzazione sul caso che va valutato e poi deve essere individuata la legge o le norme applicabili basti pensare però all'insegnamento dei padri del diritto che celeberrimi civilisti tra i quali Irti, Falzea, Pugliatti che hanno descritto il principio di sussunzione secondo il quale il fatto va sussunto nella norma quindi diciamo che rientriamo anche se poi su questo c'è stato un ampio dibattito dottrinario che non voglio qui replicare per cui anche riguardo alla protezione di dati personali e della privacy di solito ci comportiamo nello stesso modo analizziamo il caso e troviamo la norma applicabile questo approccio sembra corretto come effettivamente è, non è sbagliato tuttavia potrebbe sfuggirci qualcosa che è nel nostro che è qualcosa di qualche aspetto che ci circonda ma probabilmente non ci facciamo caso quindi se analizziamo la realtà proprio come quando usiamo degli occhiali per la realtà virtuale i cosiddetti occhiali 3D per vedere alcuni film capiamo che ci sono diverse entità intorno a noi ma spesso non le vediamo o meglio non ci facciamo caso questo accade probabilmente perché nella nostra mente nella nostra convinzione nella nostra cultura consideriamo queste entità irrilevanti in questo modo però ci comportiamo come ciechi ma dobbiamo imparare dalle persone non vedenti che percepiscono invece in modo globale molto spesso accade nella realtà in cui viviamo che vediamo solo gli oggetti che sono davanti a noi quasi come se avessimo i paraocchi proprio come i cavalli in breve a mio avviso ci sono molte entità che di solito non vediamo ma che sono incredibilmente rilevanti per raggiungere un obiettivo e questa è quindi una questione di approccio e dovremmo cercare di cambiare la nostra mentalità dovremmo essere di mentalità aperta si dice open minded e cambiare le nostre abitudini o meglio il nostro approccio riguardo a questo contesto questo dominio protezione dei dati personali e privacy quindi c'è la necessità di un serio e radicale cambiamento di mentalità che però non significa non considerare e trascurare le leggi sulla privacy come sappiamo tutti in ambito europeo il GDPR ma semplicemente essere consapevoli che ci troviamo di fronte ad una nuova era della privacy il GDPR è una rivoluzione e molti fanno ancora fatica ad entrare nella nuova dimensione concettuale della protezione dei dati se non facessimo così continueremo a lavorare sulla protezione dei dati e sulla privacy con un approccio obsoleto e meno proficuo basato e focalizzato solo sulle norme trascurando alcuni altri aspetti rilevanti e pertinenti in questo modo finiremo per capire solo una parte secondo me ma non l'insieme so che è difficile cambiare approccio quando si imparano i principi e di conseguenza si utilizza lo stesso metodo per anni però ritengo che questa sia la strada per un approccio corretto riguardo a questa edizione preciso soltanto che si tratta di una seconda edizione di un libro che è stato pubblicato lo scorso anno si tratta di un'edizione ampliata ed aggiornata tanto che è più che raddoppiato il numero di pagine ho lasciato comunque la stessa impostazione per rendere più accessibile il più accessibile possibile il tema della protezione dei dati personaggi della privacy anche i non addetti ai lavori pur mantenendo il rigore scientifico nell'esposizione quale seconda edizione è rimasto identico il titolo ma è cambiato il sottotitolo che fa riferimento al modello da premo che poi illustrerò più avanti ciò che rimane in comune con la precedente edizione è anche l'immagine della copertina che rappresenta dei pixel che si sciolgono e non a caso diciamo questa parte grafica credo che abbia un significato importante però in questa edizione cambia il colore perché è blu rispetto al verde dell'edizione precedente dello scorso anno nella prima edizione è rimasta anche la prefazione di Giovanni Buttarelli alla quale è stata aggiunta una parte del suo intervento che è stato effettuato proprio lo scorso anno durante l'evento di presentazione del volume relativo alla prima edizione questa seconda edizione si apre con la prefazione dell'attuale garante europeo e le DPS Wojciech-Wierowski posso dire senza ovviamente rivelare i dettagli del nostro scambio di mail ovviamente per ragioni di privacy che sono rimasto ben lieto nel ricevere la sua risposta di essere diciamo favorevole disponibile disponibile a curare la prefazione perché appunto mi comunicava che accettava di scriverla ma nello stesso tempo manifestava apprezzamenti nei miei confronti che ovviamente gradisco sempre fa sempre piacere ricevere ancor più quando vengono da parte di persone che hanno uno spessore professionale istituzionale come quelli come come quello del garante europeo suggerisco anzi consiglio vivamente la lettura della prefazione del garante europeo perché il contenuto è davvero davvero apprezzabile io mi fermerei qui in questa parte introduttiva poi magari più avanti posso diciamo spiegare meglio e dare ulteriori dettagli sul su aspetti diciamo più più rilevanti come il modello o altri aspetti il microfono il microfono bisogna sì l'avevo levato per evitare che disturbasse no poi dovremo entrare anche un po' nel merito del del modello matematico che il libro propone in via del tutto originale rispetto alle elaborazioni di settore che abbiamo fino ad ora registrato e devo dire che fin da adesso vorrei anticipare che nella fase finale io vorrei che chiudessimo poi e quindi faccio appello al garante Fabiano proprio perché ci riservi questa considerazione alla fine dobbiamo chiudere con il futuro e quindi con le neuroscienze le neurobioscienze mi verrebbe voglia anche di considerare che dato che il presente ci sta levando tanta tanta energia per avere adesso energia per essere per avere linfa vitale dobbiamo guardare veramente al futuro quindi questo spicchio di proiezione che vogliamo collocare alla fine del nostro confronto ci sarà molto d'aiuto a questo proposito vorrei passare subito al nostro al primo dei due discussant del nostro evento e vorrei dare la parola a Vincenzo Colarocco Vincenzo Colarocco è un giovane avvocato valentissimo si occupa di privacy con competenza e lavora presso un importante studio romano che è lo studio prediti Vincenzo Colarocco ecco consapevolezza e opportunità sono le due parole d'ordine che il garante Fabiano mette in evidenza nel suo libro mi verrebbe voglia di dire che tra i tanti cambiamenti ce n'è forse anche un altro che potremmo segnalare il passaggio da privacy a protezione dei dati quindi da una visione diciamo di uso personale dire quasi del rispetto dei fatti che riguardano la vita personale di un individuo e quindi una visione anche un po' intimistica della propria alla protezione dei dati che implica invece un concetto di valutazione economica del dato quindi come grande soggetto di mercato capace di scardinare anche gli equilibri più antichi quindi ecco questo è poi il motivo ricorrente che abbiamo sotto gli occhi quello di un profondo cambiamento e ecco anche a lei avvocato Colarocco vorrei porre lo stesso quesito come valutare quello che il garante Fabiano indica come la dicotomia la dualità tra le opportunità e la consapevolezza e come relazionarle alla possibilità diciamo che il diritto stia al passo col cambiamento e in qualche modo possa non dico illuminare la strada ma in qualche modo non essere sopraffatto dal cambiamento tecnologico a lei la parola prego avvocato grazie prima di entrare grazie Raffaele per la domanda volevo ringraziare personalmente e complimentarmi con Nicola per il suo libro che apre delle prospettive e degli scenari di discussione a livello scientifico molto importanti che avremo modo oggi di affrontare anche assieme a Rocco che è un illustre collega di cui pensiero siamo molto spesso affini veramente grazie anche a Carla e alla consigliera Carolina per l'invito e per poter partecipare oggi in questa giornata allora Raffaele la domanda che mi hai posto è una bellissima domanda ed è un tema rivoluzionario che per chi il GDPR per chi di data protection si occupa da tempo la concezione ovviamente si è evoluta dalla privacy al diritto dalla riservatezza fino ad aggiungere a noi come un controllo sui propri dati e hai buttato lì una piccola bomba che forse può essere colta ovvero il tema che può essere quello che si sente oggi molto spesso sui giornali e sui temi degli addetti ai lavori che è quello della commercializzazione dei dati e della valorizzazione dei dati ci vedo anche Rocco che da poco ho visto che aveva scritto un articolo sul tema che mi è fatto rivenire in mente proprio adesso del tema sempre più aperto e del tema che ci porterà nel prossimo futuro ovvero la monetizzabilità dei dati e ci sono tante iniziative che sono state poste in essere e in questi due anni e che sono sotto l'occhio delle autorità anche europee la tematica e secondo me passo faccio un passo indietro è un filice la parola deve essere la consapevolezza una consapevolezza che deve partire ovviamente da noi addetti ai lavori sino a chiunque una consapevolezza che in questo momento storico è un momento storico decisivo anche nei confronti della data protection perché ieri sera stavo vedendo un manuale che riporta forse qualcuno di voi lo ricorda è un film del 2002 dove Steven Spielberg chiamò degli scienziati dei fisici per come si potesse immaginare si potesse immaginare il 2054 l'ho visto con occhi diversi rispetto a 20 anni fa di quando l'ho visto e vedete insomma entrare nel negozio e già essere profilati sapere il gusto avere un controllo predittivo da parte della polizia su come si può andare e mi sono fatto qualche domanda riflessione che metto sul tavolo anche oggi perché di fatto nella nostra società mondiale perché parliamo di esperienze mondiali alcuni esperimenti già sono stati fatti e posti in essere anche quella della possibilità di prevenire il crimine il crimine a seconda un'analisi del dato e sull'utilizzo fondamentalmente dell'algoritmo con questa parola magica che tutto racchiude in sé ma che ha il fulcro dello sviluppo della nuova società e della società che stiamo vivendo ma ha in sé dei lati oscuri che possono portare dei pregiudizi molto molto importanti alle nostre libertà alle nostre decisioni ricordo alcuni casi di esperimenti che sono stati fatti anche e che sono in atto nel mondo cinese ma anche nel mondo americano sulla possibilità di predizione attraverso l'algoritmo di dove andare a commettere dei crimini e di come vengono utilizzati ma si sta vedendo e si sta andando a toccare con mano come l'algoritmo può essere anche discriminatorio può essere discriminatorio in quanto non perché esso stesso è discriminatorio è una tecnologia e dipende da come lo stesso può essere addestrato e secondo me questo è un tema molto rilevante su cui ci dobbiamo andare a porre delle domande di come e quali strumenti andare ad utilizzare per poter andare a creare degli anticorpi verso delle discriminazioni che possano esserci derivanti dall'algoritmo ovvero quel tema molto importante che è dell'addestramento dell'algoritmo ovvero di ciò che viene dato in mano e in pasto all'algoritmo e quali dati attenzione perché qui il tema della consapevolezza e dell'opportunità secondo me è una sintesi molto interessante perché rientra in questo esempio che mi è venuto in mente è sul tema anche dei principi fondamentali sia portati dal GDPR e sia del mondo della governance e della rete ovvero anche quello della neutralità perché non avere un algoritmo non neutrale ben può andare a discriminare e andare a incidere sensibilmente sulle vite ma anche su uno stato sociale e su delle forme di governo degli stati quale può essere la democrazia ci sono bellissimi saggi che forse già conoscete i più di Zupfav la parte della sorveglianza del capitalismo e la sorveglianza del capitalismo e la teoria della dittatura del filosofo Humphrey che esprimono molto lucidamente dei rischi che vi possono essere di deriva della forma di governo che vi è a seconda dell'utilizzo dei dati nelle decisioni e quali possono essere in una riflessione molto alta e da mettere su cui vorrei anche un confronto e un pensiero di Nicola e di Rocco su questa possibilità di andare e di attivarsi per creare degli anticorpi a quello che si e per come si sta evolvendo l'algoritmo e la nostra società io ne ho fatti alcuni di riflessione e c'è un piccolo pensiero che metto sul tavolo il primo è sfruttare un po' quel il principio elaborato anche da Floridi e ripreso da Soro del group privacy cioè dell'autodeterminazione dell'individuo non più come singolo ma singolo nel gruppo e che rappresenta gli individui e che ben possa essere tutelato a seconda del gruppo di appartenenza quindi una tutela differente un'altra un altro punto che mi sembra una filosofia mi sembra molto importante da applicare è quella dell'umanesimo digitale ovvero di andare a trovare quello che è l'equilibrio sempre più difficile tra tecnologia e diritti e libertà dove la tecnologia non deve essere inseguita dai diritti e dalle libertà ma la tecnologia dovrebbe seguire i diritti e le libertà che sposta in maniera importante l'equilibrio fra questi due diritti e quale potrebbe essere una strada per fare questi anticorpi potrebbe essere proprio quella la regolamentazione anche dell'intelligenza artificiale e da dove partire da dove partire secondo me è dal GDPR una delle basi ci sono tanti studi sull'intelligenza artificiale e molti già provvedimenti di soft law che Nicola nel suo libro ha già espresso in maniera puntuale ma di andare a imporre se ove possibile con strumenti anche elastici proprio quello della privacy by design come nell'articolo 25 già dalla progettazione oltre all'algoritmo che può essere sicuro deve essere anche e soprattutto di privacy by design è qui che si sposta la difesa perché noi possiamo andare a vivere la protezione dei dati personali come un'argine o come l'arma che può tutelare le nostre libertà perché per senso comune in questo grave periodo in cui ci troviamo di crisi sanitaria ecco che le persone hanno come senso comune dire vabbè ma la privacy che ci importa facciamo un passo indietro e attenzione che questo può essere molto pericoloso a livello di consapevolezza e di senso comune perché degradare quello che che è un diritto fondamentale conquistato conquistato sia sul campo di battaglia delle libertà ma anche nelle aule giudiziarie e con la penna non bisogna rinunciarci ed è è pasta della consapevolezza per arrivare all'ultima riflessione che facevo ieri sera ovvero il pensiero critico il pensiero critico è che secondo me deve essere fomentato uso questa parola non casualmente bisogna partire dalla scuola e dall'educazione digitale ma da sin dalle aule più piccole dalle scuole primarie per dare i mezzi di poter per poter vivere all'interno della nuova società e capire percepire quello che il mondo che viene governato dall'algoritmo è di avere gli strumenti critici per poter analizzare e sopravvivere quindi già una sintesi che può essere tra consapevolezza e opportunità è andare a creare la consapevolezza della data protection e della privacy e della propria riservatezza sin dalle aule delle classi dei bambini più piccoli o so che ho messo tanti argomenti sul tavolo ma su questo mi piacerebbe conoscere il pensiero di stimatissimi colleghi quello di Rocco e di Nicola intanto io vorrei provare a adalare il terreno vorrei cogliere un po' di parole così insomma come si fa con le strisce del motore di ricerca capitalismo della sorveglianza citato eccetera siamo controllati ci controllano tutto entriamo in un supermercato hanno i manichini oppure in un negozio hanno i manichini con gli occhi con la telecamera sanno già qual è l'articolo di cui chiederemo il prezzo va benissimo purtroppo tutto questo è vero avviene avviene già ora la domanda è nel secolo scorso quando ci furono le rivoluzioni di operai contadini di classe media erano le rivoluzioni sociali perché c'era qualche fascia della società che riteneva di essere esclusa dalla gestione del potere quindi le classi dirigenti dirigenti chiudevano la porta questo per rimanere nel capitalismo di sorveglianza la sensazione che oggi non ci sia un establishment che chiuda la porta perché non vuole far entrare la sensazione che l'establishment oggi dica chiaramente che di voi non sappiamo cosa farcene siete inutili possiamo comunque comandare e decidere lo stesso indipendentemente e la crisi di questa classe media è proprio quella di sentirsi totalmente inutile ora in questo contesto è veramente il dato importante perché il abbiamo fatto è pesante Raffaele un parallelismo se prima si chiudono le porte oggi si aprono cioè il tema più è la parola più è lo slogan più utilizzato è sempre il dato il nuovo petrolio ma attenzione per alcuni modelli di business il consumatore del prodotto è lo stesso produttore cioè la stessa persona che produce ciò che poi vuole andare a consumare e c'è un altro punto che va nel e che quindi è la base dei dati che va a creare e lascia il dato personale ma c'è un altro punto è quello anche dell'omologazione dell'utilizzo di alcuni strumenti e di social network che porta a un'assenza di pensiero critico e dell'apertura che dicevamo dei portoni in questa seconda terza rivoluzione industriale o tecnologica perché perché fondamentalmente quell'omologazione che si ha e si ha un nuovo mondo che può essere distante da noi per ragioni anagrafiche ti ringrazio per prima per il giovane ancorché per l'istante non lo sono più il tema è che oggi io sono e devo essere e seguire quel modello non per un valore per un dato valoriale ma solo per un valore che può essere economico e per quanti possono essere i follower e tentare di mettere sempre più di me nella rete e di produrre sempre più dati affinché io possa essere accettato in una società omologata è quello che fa venire un po' meno anche il pensiero critico di poter capire se vale la pena monetizzare il dato o valorizzarlo che è un concetto molto importante perché il concetto di monetizzazione e valorizzazione sono due concetti totalmente distinti perché quello che si sta andando è sulla richiesta di una forte popolazione di poter vendere il dato di vendere se stessi ma utilizzo una metafora molto 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 dura ma è come andare sul mercato in piazza e tornare in uno schiavismo di mettere in piazza se stessi per essere venduti e essere pagati è un mercimonio della persona e questo bisogna stare attenti e non andare ma le richieste di dire ok per poter avere successo raggiungere degli idoli che possono essere più o meno accettati e condivisibili o meno ecco che si ci si va a vendere a vendere come attraverso i dati con consapevolezza e inconsapevolezza e torniamo alla parola di prima e anche al titolo del libro di Nicola che è fondamentale un altro piccolo riferimento all'intelligenza artificiale tema su cui il libro di Nicola Fabiano insiste come era prevedibile che fosse ovviamente ma lei ha parlato di regolamentazione dell'I cioè è possibile regolamentare l'uso dell'intelligenza artificiale ecco ripeto come dire faccio eco alla considerazione per ribaltare la domanda ma è veramente possibile regolamentare l'intelligenza artificiale ponendo dei limiti all'uso di soluzioni tecnologiche del genere non parlerei non parlerei di di porre dei limiti parlerei di utilizzo etico cioè la regolamentazione dell'intelligenza artificiale per applicare l'etica nell'ambito tecnologico affinché non vengano lesi diritti e libertà e non casualmente citavo la privacy by design perché nel momento della costruzione dell'algoritmo io devo tener conto e verificare concretamente se quell'algoritmo può essere discriminatorio o meno pensiamo alle telecamere sul riconoscimento facciale la facial recognition o di come si sta andando a sviluppare e di come vengono addestrate basta se in una fotografia c'è una persona bianca un bambino bianco un bambino nero basta assegnare un tag bambino e bambino nero ed ecco che si crea la macchina impara a discriminare quindi lo strumento che oggi abbiamo in mano e su cui già si può andare a regolamentare l'ambito per la tutela è quello proprio della privacy by design ma ci vuole un approccio rigoroso scientifico e di applicazione normativistica molto molto attento cosa che per quello che nella mia esperienza è un po' mi è capitato di vedere molto spesso non vengono utilizzate tecnologie che possono essere molto invasive avere degli impatti molto limitanti nelle nostre libertà senza che vi sia una scientificità ed è corretto esposo il pensiero di Nicola quando dice attenzione qui non stiamo parlando solo di applicazione di norme ma c'è un ecosistema siamo a 360 gradi non abbiamo un livello bidimensionale ma un livello multidimensionale in cui bisogna tener conto di più fattori e l'etica non è una parola che deve restare morta ma deve essere applicata perché è quello che poi ci può guidare nell'applicazione della tecnocrazia e dell'algoritmo a contemperare tutti gli interessi in gioco e lo sforzo del legislatore deve essere quello nell'emanazione della norma che deve essere il più elastica possibile stante l'evoluzione tecnologica di far applicare con rigore e con sagacia quelle che sono i principi fondamentali per la tutela della persona da cui uno che si è visto già il GDPR già all'inizio da una forza propulsiva ed è stato pionieristico vediamo da ultimo la legislazione brasiliana che già segue l'impostazione del GDPR ha fatto scuola lo sta facendo ma deve esserci ancora di più un'attenzione sin dalla nascita della nuova tecnologia sin dal momento dell'ideazione a mio avviso bene grazie Vincenzo Colarocco passerei al nostro ospite che fino ad ora ci ha ascoltato presumo con grande attenzione e a cui io vorrei chiedere delle cose come dire che seguono un po' il filo del nostro ragionamento ma vorrei chiedergli forse anche qualcosa in più intanto ve lo presento nuovamente Rocco Panetta Rocco Panetta è un avvocato ben noto è il fondatore dello studio omonimo ma Rocco Panetta è un avvocato che è stato anche dall'altra parte è stato dirigente in passato del garante della privacy e poi è entrato come dire sul campo come si suol dire e beh Rocco Panetta che ha una come dire ha una alla fortuna di avere anche una visione paneuropea Panetta è country leader e membro del consiglio di amministrazione dello IAP che è l'International Association for Privacy Professionals quindi diciamo ha l'opportunità di operare sul campo in Italia e in altre sedi mondiali attraverso i suoi studi ma di far riferimento anche a quel framework di norme europee e di attenzione paneuropea di cui abbiamo bisogno come il pane per evitare che ciascun paese pensi di fare la battaglia da solo battaglia nella quale sarebbe destinato ovviamente alla sconfitta Rocco Panetta tanti temi che sono emersi nel considerare il lavoro di Nicola Fabiano però io vorrei diciamo tirare in ballo altre parole chiave su cui sollecitare la sua attenzione sovranità digitale è stata una delle prime preoccupazioni della presidente della commissione europea Van der Leyen e a luglio quando fece il primo discorso di insediamento parlò esplicitamente di sovranità digitale cioè non vi è autonomia di un paese o di una unione europea come quella della quale facciamo parte se non siamo certi di essere sovrani non solo dei nostri territori ma dei nostri dati e oggi la sovranità può essere spizzata non facendo entrare i carri armati in un'altra nazione ma rubando sotto il tavolo tutti i dati dei suoi cittadini quindi sovranità digitale e quindi anche ambiti di giurisdizione cioè quali sono le modalità attraverso cui assicurare questo poi Vincenzo Colarocco ha immesso anche un ulteriore elemento quello della monetizzazione noi tutti sappiamo che quello della monetizzazione sarà uno dei campi di battaglia direi perché bisognerà fare salire sulle barricate per evitare che questo avvenga quindi infine ecco il discorso dell'etica che anche Colarocco citava ma che fa parte integrante dell'elaborazione di Nicola Fabiano quindi il modo con cui guardare l'intelligenza artificiale come maneggiare diciamo queste soluzioni che intaccano spesso i diritti della persona ecco questo è un uno spettro così ampio così immenso su cui io diciamo sollecito un suo primo intervento e sono sicuro che anche successivamente ci ritorneremo in corso di dibattito prego ma grazie lasciatemi prima di di tutto unirmi al coro un pochino della dei ringraziamenti perché insomma ecco per me è un'emozione poter essere qui oggi a celebrare un traguardo un successo dell'amico Nicola Nicola nella mia così nel mio immaginario nella mia storia professionale è stato uno dei primi amici è una delle persone con cui abbiamo anche fatto un peso di strada insieme io lo ricordo sempre con con affetto perché gli anni in cui subito dopo aver lasciato io l'autorità Nicola ci siamo trovati ci siamo incontrati a Bruxelles ci siamo incontrati in giro e lui per un per un periodo è stato anche nella mia nella mia famiglia professionale con me e questo lo ricordo sempre con affetto allora insomma considerare poter leggere oggi poter contribuire alla riflessione e poter potergli far festa ecco insieme ad altri amici che che hanno speso delle belle parole è qualcosa che mi dà particolare soddisfazione detto questo anche in ragione del fatto che tra credo qualche minuto poi arriverà il presidente dell'autorità di supervisione europea il garante di Oroschi che come sapete ha raccolto il testimone di Giovanni Buttarelli del compianto amico e maestro nel mondo della protezione dei dati inizio proprio per poi non lasciare come dire troppi discorsi appesi che verranno inevitabilmente così interrotti dal suo intervento inizio a raccogliere due tre idee su quelle che sono le suggestioni che il direttore Barberio ha appena fatto allora guardate la storia le vicende della protezione dei dati sono ormai note nel senso che non è difficile essere inediti in un ambito che o dire cose originali quindi già metto le mani avanti per non cadere in un ambito in un settore che è stato oggetto di analisi giuridica sociologica anche storiografica per certi versi filosofica e da ultimo informatica ormai da un centinaio d'anni a questa parte se poi nel 95 si è arrivati ad avere una prima direttiva sulla protezione dei dati non è perché come dire qualche burocrate a Bruxelles abbia deciso di far questo è perché c'è stato un importantissimo movimento di presa di consapevolezza capeggiato da uomini come Spiros Sinitis come Stefano Rodotà potrei citare altre persone all'estero abbiamo avuto l'importante azione di Anca Vucchian che so essere un'amica anche di Nicola Fabiano sapete si parla sempre di privacy by design come di una novità del GDPR la privacy by design è una novità dell'altro secolo cioè nasce dalla riflessione di Anca Vucchian che è stata garante dell'Ontario quando era garante Rodotà e sapete appena Anca Vucchian è uscita dalla ha lasciato il suo il suo lavoro ha iniziato a disseminare nel mondo il pensiero della privacy by design creando anche queste figure di privacy ambassador e Nicola è stato uno dei primi privacy ambassador europei della privacy by design quindi ecco sono temi di cui si discute ormai da tempo poi è chiaro c'è tutto un mondo che si è svegliato come da un un brusco così ha avuto un brusco risveglio da un sonno profondo e tra questo e tra questi dobbiamo mettere anche molti dei nostri colleghi giuristi per esempio la magistratura ancora non si è svegliata dal torpore della incomprensione della fenomenologia del trattamento dei dati ancora come dire nelle nelle relazioni dei procuratori generali dei procuratori della repubblica all'inizio degli anni giudiziari le tematiche della protezione dei dati non vengono prese in considerazione qualche tentativo timido inizia a esserci intorno a tematiche di cyber crime ma che come sapete è un pezzo della protezione dei dati della circolazione dei dati ma non è il focus centrale di questa materia quindi bene è che oggi come in altre occasioni ma soprattutto oggi siamo qui a parlare di queste tematiche anche alla luce di un testo il libro a firma di Nicola Fabiano che fa un esperimento se vogliamo prende tocca accarezza delinea tratteggia mette a fuoco tutti i principali temi tutte le principali sfide che la protezione dei dati pone all'uomo contemporaneo però non resta non lascia peso il come dire non getta soltanto delle provocazioni non lascia il filo così non tessuto ma nella parte poi metodologica ci offre alcuni spunti per delle soluzioni pratiche vedete la normativa sulla protezione dei dati ha tanta teoria ha tanta affonda le radici in tantissimi principi della del diritto e anche poi se volete della della gestione dei processi però poi il tema della circolazione dei dati è un processo in sé cioè è un tema che si deve confrontare deve essere declinato quotidianamente nelle dinamiche del tema della circolazione del dato spesso i miei clienti mi dicono ma guardi avvocato ma poi noi non comprendiamo perché su un trattamento di dati ci devono essere tutti questi meccanismi presidi questi cambiamenti di scena ma il tema è semplicissimo il trattamento dei dati che fotografa la dinamica della circolazione dell'informazione personale che ora è diciamo un pezzo per esempio importante dell'adempimento di un obbligo contrattuale un minuto dopo è un pezzo altrettanto importante dell'adempimento di un obbligo di legge e un altro minuto dopo diventa una va ad alimentare diciamo quella che può essere la necessità il raggiungimento di uno scopo più voluttuario di un titolare del trattamento e che quindi richiede per esempio come base giuridica il consenso dell'interessato o quella ineffabile categoria del legittimo interesse del titolare ci dimostra plasticamente come il dato personale entra che appartiene a ogni interessato a ogni individuo ed è come dire la rappresentazione fotografica di ciò che noi siamo in quel preciso istante nella relazione con un titolare cioè con un soggetto che istituzionalmente tratta i nostri dati quel dato entra in un modo ed esce in un altro sapete quanti clienti mi dicono ma avvocato noi i dati li teniamo ma non li trattiamo perché stanno lì conservati e io gli dico guarda hai già fatto almeno due tre attività di trattamento e neanche te ne sei accorto perché il dato l'hai raccolto l'hai conservato lo hai selezionato e messo in diciamo bidoni diversi tanto che poi a seconda delle necessità lo andrei ad utilizzare quindi vedete come sono ancora tanti temi che sfuggono e parlarne metterli a fuoco e soprattutto provare a dare delle soluzioni il metodo di da premo adesso poi io stesso ne ho mi sono approcciato con con estrema estremo interesse estrema umiltà non ho capito tutto perché poi c'è bisogno anche di come dire di contributo del contributo appunto matematico di di persone di figure che ci spieghino alcune dinamiche dell'operatività di questo modello però ha il beneficio di buttare a terra di mettere quindi i temi che altrimenti resterebbero nell'empireo del del teorico in un ambito concreto che è quello poi della vita delle aziende e delle pubbliche amministrazioni di tutti i giorni hai toccato diciamo del tu del lei mi chiedo scusa direttore ha toccato le alcuni dei temi devo dire più critici e controversi del nostro tempo l'intelligenza artificiale la dittatura dell'algoritmo l'etica dell'algoritmo e soprattutto la monetizzazione allora il tema della monetizzazione credo che sia la battaglia sulla quale intorno alla quale non si gioca soltanto come dire la prevalenza di un modello economico rispetto ad un altro che già sarebbe tanta roba ma andiamo veramente a toccare tematiche argomenti e settori in cui ecco hai parlato di Cambridge Analytica la libertà delle nostre società delle nostre democrazie la tenuta delle stesse quindi la possibilità di tenere integro quel substrato che la nostra Costituzione ci ha voluto regalare dicendo lo Stato è quella quell'insieme di solidarismo no? e di adempimento di obblighi che lo Stato stesso pone a se stesso e alla ai cittadini per permettere ai cittadini stessi di vivere in un ambito libero e di poter svolgere la propria personalità ecco per far questo dobbiamo capire dove vogliamo arrivare con la monetizzazione del dato vedete e poi chiudo su questo punto ma il discorso è molto semplice qualcuno mi dice quando pongo questi temi mi dice ma guarda Rocco la battaglia ormai è perduta i famosi buoi sono usciti dalla stalla i nostri dati sono dovunque vengono monetizzati da chi che sia non sarebbe bello anche essere parte di questo modello diciamo anche di un modello condiviso partecipato di valorizzazione dei dati sarebbe bello guadagnarci anche noi i dati in fondo sono i nostri bene allora noi qui abbiamo introdotto due tre livelli di eversione di sovversione di gravissima di gravissima intromissione di dinamiche economiche in quella che è la sfera più profonda della libertà dell'individuo vedete non è un caso che i diritti patrimoniali costituzionalmente garantiti sono stati messi nella seconda parte della costituzione italiana proprio perché meno importanti rispetto ai diritti fondamentali e allora se battaglia deve essere se equilibrio deve essere è quello giustamente che viene posto tra prevalenza della libera manifestazione del pensiero rispetto alla riservatezza di prevalenza del diritto alla salute rispetto alla libera circolazione sul territorio dello Stato lo vediamo in questi giorni qui parliamo di diritti che hanno uguale peso specifico però attenzione non è vero che abbiamo già un tempo viviamo già un tempo in cui abbiamo perso completamente ogni dominio ogni potere sui nostri dati personali e ve lo spiego in un minuto se me lo consentite vi spiego il mio punto di vista non vi spiego nulla di che voi non sappiate già vi spiego cosa sto provando a dire mi spiego meglio allora oltre al di là della diciamo degli esempi finora fatti vedete il tema della valorizzazione del dato è un tema assolutamente pacifico e lecito i nostri modelli economici vivono di questo cioè immaginate vedete lo stesso garante recentemente ha licenziato ha approvato la nuova versione di due codici di condotta che erano già stati approvati dieci quindici anni fa il famoso codice di condotta delle società di informazione commerciale o delle società di informazione dei SIC dei sistemi di informazione creditizia beh il codice dei SIC affonda le radici nel 2003 quindi parliamo di diversi diversi anni fa cos'è che fu riconosciuto con quel codice fu riconosciuta approvato dal garante che divenne parte integrante un allegato del vecchio codice privacy del 196 del 2003 fu riconosciuto esattamente il valore sociale dell'attività antifrode svolta da queste società o di informazione commerciale o di informazione creditizia che non fanno altro che creare meccanismi di analisi di data scientism intorno a dati personali per capire predire il comportamento di affidabilità in un caso economica nell'altro caso finanziaria di un individuo e ovviamente quelle società che svolgono questo lavoro non lo fanno per missione non sono dei missionari sono società a scopo di lucro che svolgono il loro lavoro all'interno di binari di valorizzazione dei dati e rivendita di servizi su dati personali raccolti per determinati scopi quindi vedete è già qualcosa che si fa la monetizzazione dei dati la scusate la valorizzazione dei dati ma nessuno finora si è mai sognato di andare a dire allora tu che sei un cattivo pagatore o un buon pagatore e sei in un sistema di informazione creditizia con uno scoring piuttosto che un altro ecco se ci dai quell'informazione in più ti diamo in cambio dei soldi questo è l'elemento eversivo questo significa prezzolare dare un prezzo al dato personale che è qualcosa che nell'attuale sistema giuridico europeo basato su il diritto fondamentale al trattamento dei dati alla sua protezione ai sensi della carta di Nizza del 2000 quindi un diritto alla protezione dei dati che non è stato introdotto dal GDPR è stato introdotto dalla carta dei diritti di Nizza ed è nei trattati è nel trattato di Lisbona quindi è roba vecchia ormai possiamo dire bene ai sensi di questa normativa non può essere degradato in senso chiaramente non morale non sto dicendo che è una cosa peggiore ma non può essere mutato il diritto alla protezione dei dati in un diritto come dire alla mercificazione dei dati quindi sono due cose diverse quando tu proteggi un bene giuridico che è prodromico al godimento di diritti fondamentali e libertà quel bene giuridico è extra commercio non è quindi non può essere quindi in qualche modo ripagato la monetizzazione di cui invece si sta iniziando a parlare sempre più spesso è proprio quella di incentivare la circolazione dei dati e la release di determinati set di informazioni dicendo ma guarda alla fine gli altri fanno i soldi sui tuoi dati tu comunque sei trasparente sui social media nel web ecco magari se ti metti un bollino e dici ah io sono disposto a farmi pagare a quel punto sareste disposto a farti pagare per votare in un certo modo sareste disposto a farti pagare per comprare determinate cose sareste disposto a farti pagare per esercitare diritti e libertà in un modo deciso da altri ecco è la fine della libertà non è l'esaltazione e riportare l'uomo al centro portare riportare l'uomo al centro e ridare il controllo sui propri dati personali che è ciò che nella linea di crescita che va dalla carta di inizia e ho finito al trattato di Lisbona fino al GDPR a tutte le norme collegate in maniera coerente dalla lezione di Rodotà alla oggi lettura del libro di Nicola Fabiano vi è una perfetta armonia ci terrà impegnati credo nei prossimi mesi anche con con grande partecipazione attiva immagino ma faccio una domanda in Italia operano già delle società che si presentano per esempio alla grande distribuzione organizzata quelli che distribuiscono le carte pedeltà e dicono guardi io rappresento il suo cliente Mario Rossi piuttosto che Gennarino Esposito e questa è la delega che mi ha fatto per gestire i suoi dati quindi lei mi deve 32,40 euro per i dati che ha usato in quest'ultimo anno questo sta già avvenendo qualcuno ha fatto delle obiezioni al garante italiano il garante italiano della scorsa consigliatura ha inviato il materiale a Bruxelles per farne oggetto di confronto tra i vari garanti la domanda è ma è possibile immaginare che i dati siano una sorta i dati di una nazione siano una sorta di proprietà indivisa ovvero voglio essere più chiaro se tu vendi i tuoi dati vendi una cosa che tu ritieni appartenga solo a te ma stai danneggiando anche me perché stai facendo dei danni al sistema le cui conseguenze si ripercuoteranno anche su di me e per amore di provocazione vorrei aggiungere così come la lei è vero che a me il mio rene mi appartiene ma se io volessi vendere il mio rene commetterei un reato e allora ci può essere un filo rosso che unisce tutte queste cose e che toglie diciamo vigoria a una visione populistica di valorizzazione dei dati anzi di monetizzazione dei dati perché la differenza è abissale mi permetto di rispondere sempre io visto che sono stato l'ultimo che ha toccato questi temi poi credo anche Vincenzo abbia e Nicola possono aggiungere degli aspetti ma guardi direttore là assolutamente sì gli esempi che ha menzionato sono coerenti con quantomeno con tutta l'evoluzione del pensiero di un grande maestro Stefano Rodotà Stefano Rodotà continuava a toccare i temi dell'ambiente della tutela dell'ambiente che guarda caso anche dalla Corte Costituzionale negli anni è stato riconosciuto come un diritto il diritto all'ambiente un diritto fondamentale è un interesse della collettività quindi al tempo stesso bene comune e bene suscettibile anche del godimento uti singoli quindi della della singola persona e quindi meritevole di tutela anche sotto questo punto di vista l'ambiente tutta la teoria dei beni comuni che conosciamo sempre costruita o portata avanti fino alle estreme conseguenze anche con dei referendum negli ultimi anni e sempre che muoveva i passi dalla riflessione di Rodotà tutti i temi anche della bioetica sono e quindi vedi che vedete che giustamente il direttore ha toccato il tema della disponibilità di parti del corpo il famoso libro tecnologie e diritti del 1995 di Stefano Rodotà non fa altro che toccare tutti questi temi aprendo le porte ad un filo comune vedete anche il fatto che alla fine tutte queste materie siano anche protette per certi versi da la norma più importante nella teoria della responsabilità del diritto civile che è la norma sulla responsabilità quigliana è parte di quella necessità forte che viene dal basso di tutela di questi elementi quindi assolutamente sì e analogamente a come nella nel mercificare uso un termine brutto ma non me ne viene un altro nel mercificare parti del corpo si in qualche modo si incappa in divieti presidiati dalla norma penale che appunto in qualche modo sancisce un'inviolabilità dell'unità del corpo pena chiaramente la commissione di un reato analogamente come sappiamo la tutela del dato personale che fino a un certo punto è una tutela assolutamente ordinatoria nel senso che si dà ai vari soggetti al titolare al responsabile all'interessato varie potestà e varie come dire opzioni di atteggiare la vicenda del trattamento dei dati fino a quello che è il limite più estremo della illiceità del trattamento che si atteggia esattamente come l'illiceità degli atti di disposizione del corpo cioè non è lecito come dire mercificare dati personali laddove nella violazione di legge si persegua che cosa il doppio elemento della guadagno del trasgressore del profitto del trasgressore e del documento del soggetto interessato quindi c'è un fil rouge nel diritto ora si tratta di veramente passare ad una fase in cui questo fil rouge diventi come dire avvolga l'intera vicenda del trattamento dei dati e qui poi c'è magari dopo se avremo ancora tempo mi riservo di dire qualcosa si va sul tema che il direttore ha toccato all'inizio del problema della sovranità della giurisdizione della legge applicabile e ce ne aggiungo un altro dell'enforcement un tema che immagino anche il presidente Fabiano e qui Nicola ti chiamo presidente perché hai un ruolo istituzionale e non ho detto l'amico Nicola il presidente Fabiano sicuramente avrà una sensibilità a riguardo bene abbiamo pochi minuti prima di dar luogo alla seconda parte diciamo del nostro evento perché ci sarà il garante europeo Pio Roschi però vorrei ricorrere per un attimo al presidente Fabiano perché se possiamo dare una sola battuta prima di dare la parola al garante europeo su questo tema della monetizzazione che è un argomento su cui si scalderanno i motori cosa occorre fare è sufficiente che i garanti decidano tra di loro una soluzione è necessario che ci sia in uno Stato una norma ad hoc e quindi in questo caso bisogna fare pressione sul Parlamento perché la faccia qual è la procedura alla quale fa riferimento? Intanto vorrei esprimere il mio ringraziamento il mio apprezzamento per gli autorevoli interventi che ci sono stati fino ad ora ovviamente si tratta di amici che io stimo apprezzo e non avevo dubbi del circa lo spessore dei loro dei loro contributi quindi veramente grazie perché siete stati illuminanti con i vostri interventi la posizione dei garanti e la posizione dei garanti è una posizione particolare perché intanto perché c'è un come dire un individuazione di un'area geografica perché ovviamente a livello globale come sappiamo esiste questa organizzazione questa associazione che il cui acronimo è GPA che sta per Global Privacy Assembly già il nome questo nome è cambiato da novembre del 2019 prima era International Conference of Data Protection and Privacy Commissioners acronimo impronunciabile quasi impronunciabile ICDPCC però questo è un consesso a livello globale che raccoglie le autorità di tutto il continente di tutto il mondo a mano a mano ci sono sempre più autorità che aderiscono attualmente a GPA veniamo peraltro da una conferenza da una closed session così si chiama l'assemblea dei garanti privacy che si è tenuta qualche giorno fa dal 13 al 15 ottobre sono state adottate delle risoluzioni molto importanti quindi dicevo c'è da fare un discorso in termini geografici perché questo è il consesso internazionale e inseno a questo consesso internazionale ci sono ovviamente c'è una suddivisione per aree geografiche perché quello che è il contesto legislativo e normativo per esempio dell'America Latina questo contesto potrebbe non essere compatibile con quello europeo quindi fondamentalmente esiste un'occasione di confronto a livello globale tra tutte le autorità ma poi come accade e qui in Europa è noto c'è l'European Data Protection Board che raccoglie le autorità di protezione dei dati in ambito europeo per quanto riguarda San Marino San Marino è un paese terzo pur essendo all'interno dell'Italia e quindi viaggia su un binario non è componente dell'European Data Protection Board quindi dicevo questo scenario dei garanti è uno scenario che è suddiviso per aree geografiche certo come avrete potuto notare lo stesso Board ogni tanto anzi molto frequentemente pubblica dei documenti che sono dei documenti fondamentalmente il ruolo non è l'unico ma uno dei ruoli di un'autorità di regolazione è anche quello di sensibilizzare le risoluzioni che sono state adottate a ottobre da GPA sono fondamentalmente non tanto per le autorità di regolazione perché ovviamente noi conosciamo questi temi sono rivolte all'esterno sono rivolte al legislatore sono rivolte alle parti politiche quindi va fatta un'attività di sensibilizzazione indubbiamente verso questi organi i singoli organi nazionali prospettando quelli che sono gli approfondimenti che vengono effettuati in seno a questi consessi diciamo specialistici chiamiamoli così per cui intanto diciamo ripeto c'è un discorso di carattere geografico e quindi dobbiamo comprendere a che livello stiamo parlando se parliamo a livello globale ci sono delle posizioni espresse a livello globale che sono senz'altro molto valide e quindi il discorso diciamo andrebbe io lo andrei in qualche modo a sintetizzare in questo modo vedo che è presente le DPS e quindi vado ad accoglierlo di Arvojicek warm welcome hello welcome welcome from Brussels I'm happy to be with you sorry that I'm so late but I was taking part in the seminar which was organized by ITU and we just finished the panel so I'm coming back to Rome don't worry thank you very much I am honored for your participation in this event but all of us all of us panelists and audience are honored too these events should have held in Rome in the prestigious and institutional venue of the Italian National Bar Council in Italian Consiglio Nazionale Forense but unfortunately on last Sunday the Italian President of the Council of Ministers Giuseppe Conte signed and issued a decree by which suspended any congress activities and conferences until 13 November consequently we were forced to modify this event which became exclusively online let me take the opportunity to renew publicly my gratitude for your foreword which I appreciated very much because it is indeed punctual currently and very interesting for all furthermore in particular I find it covers all the key points in the area of data protection and privacy and at the same time contains a look to the future and challenges we should face thank you again I don't want to take away time from your intervention and before you start let me inform the audience in Italian that it's time of your intervention and then I will come back to you a this point Raffaele I think you do my part I don't let me let me let me do the we present the intervention of the European doctor Bierovski and then return with our event in Italian Vojcik the floor is yours please thank you very much thank you for the invitation here and I'm really extremely sorry for interrupting the discussion which is going on and starting to talk from Brussels as once again the intervention from Brussels well I'm really happy to be here on this very strange event as most of the events that we have right now going on around Europe around the world there are pros and cons of this situation of course the cons are that we cannot sit and drink coffee drink beer and to have the discussion a little bit off the topic or around the topic that is interesting for us from the professional point of view but there are also pros and the pros are that you can take part in the number of events that you never had the time for and they are available they can allow you to meet the people and to listen to the people that you probably would never have the possibility to meet otherwise so in this sense we should take as much as possible from the possibility to listen to the people and to listen to their sometimes very critical point of view on what's going on as far as cyber security and data protection is concerned critical because of the fact that whatever we will create as the legal ground for activities is actually working only if we know how to implement it and how to work on that in the coordinated way so let me stress this the three points actually which are the most important for us as data protection authorities the time when we try to make the general data protection regulation the really existing solution I think I lost you okay am I back yeah yeah connected okay so the the there are three main things which are important for the data protection authorities when we try to make the general data protection regulation and the reform that was done last year's operating in practice the first is the knowledge the knowledge and the understanding what's going on what is going on not only in the business models that are around but also in the technologies and in the society what are the societal changes that are going on at the same time when the technology is going on and when the new generations are seeing the world a little bit different than the older ones on the other hand the second point which is extremely important here is to cooperate and to do the things together well when I was born in 70s Europe was highly divided and for me coming from Poland it was very well visible I actually never had an opportunity to go to any western country before 1990 because there was simply no possibility like that and I had no family living there and the borders were really borders then we had the time and we still have a time when we think that we live in the one big village where the travel moving around is something that is normal and then one day in the beginning of 2020 this Europe has been stolen from me and once again I found myself divided by the borders from the place where I come from and in Brussels I couldn't have the normal contact with the people that lived in my hometown but at the same time the world was absolutely different because I didn't lose this contact through the electronic means so the cooperation is the core of doing anything about the protection of the human beings also the protection done to the personal data protection law so I'm happy that we are in Rome but we are with the data protection commissioner from San Marino and we are here through the borders through the cultures and through the different legal jurisdictions and the third thing which I would like to remind all of us although I think that especially those people who are here in the room are the most aware of that we are not protecting the data we are not protecting the systems we are protecting the human beings we are protecting the people and the people are in the middle of this discussion so it means that the data protection is to serve the humankind it's not to serve the data it's not to serve the IT systems but we should make it usable and make it possible to be transferred into the added value for the societies and let me leave it as a kind of points which were important for me when I started to read the book when I started to read the practical discussions on the data protection on security on the law remembering that we are talking about one united village all over the world which sometimes is divided into different jurisdictions sometimes is divided by the borders but actually makes one global society thank you very much thank you thank you so much we appreciate your intervention Raffaele a questo punto penso che di lasciarti il ruolo di moderatore e di vedi vedi un po' tu che il microfono il microfono Raffaele vuoi che vuoi che faccia una domanda al nostro garante europeo ma come credete visto che l'abbiamo qua visto che è qua mister viroski let me ask you a question in in corso of debate we touched one very hot topic which is the monetization of data we have in italy several companies that are involved in the representation of supposed person rights people that delegate them to be represented in front of companies that have personal data my question is when someone asked to the italian authority the italian authority passed all the dossier to the european board my question is will it be a solution a pan european solution able to be managed by any country as a law or it will be necessary that each country will have a known regulatory framework a legal law an opposite law to regulate any kind of monetization or to obstacle to struggle any kind of monetization which is your opinion about this thank you for the question because this is one million dollar question i may say of course being the data protection commissioner of the european union i would love to see the all european solution i would love to see all european answer to the question that you ask and the all and all european answer to the questions which are asked by the people who are offered this by these companies and by the companies who for their own business models but also for the good of their clients wants 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 do things like that and i think i will not reveal any confidential information when i will say that when when giuseppe bussia has presented that at the european data protection board level the answers of the people around was that's a good question do we have three or ten years to discuss before we go to the final solution and will the system look like the same when we will find the sunset so we somehow decided at this very moment that we will try to address the burning questions which are from the Italian garante and that's something which is done in the subgroup of the European data protection board at the moment but the whole problem of monetization will stay for a little bit bigger discussion that should be done by data protection commissioners and here my personal observation this discussion has not started yet I'm not sure if the data protection authorities are prepared to start this discussion but I think they are in much better situation than any of the legislators the national legislator or the European legislator I'm very cautious and I'm very delicate with giving the possibility for the member states to decide themselves about that and to decide differently of course you may once again see it as the Brussels point of view we have to do the things together but if I look at the situations where we gave we Europeans we who were in favor of reform of the data protection law when we gave the room for maneuver for the member states in this situation where we found the cultural differences or legal differences between the countries when we thought that the answers may differ one from another I would say that the results were sometimes ridiculous let me give you one example which is the age of consent of minors of course there was no way as it never been in the EU to create one solution for all the European countries there are different points of views there are different legal legal legacies I may say that had to be taken into consideration but what we got as a result we got the room for maneuver between 13 and 16 for the countries to choose and now on the opposite sides of this pendulum there are countries like Lithuania on one side and Latvia on the side Slovakia on the other side the Netherlands on one side and Belgium on the other side Ireland on one side and UK on the other side well I can understand that there are different cultures and different economies even in Europe but what the hell is differentiating Slovakia from Czech Republic the way that they are on the opposite sides of this pendulum of course these were the political choices that were taken this was the strength of different stakeholders in the discussion and I'm afraid that if we leave the monetization problem to be decided on the national level we will have the answers which are given either by the stakeholders or by the politicians or I probably should not say as the person who works in the university by the strong academic figures maybe you will find in Latvia for example one professor who decided about Latvian way of looking at this point which is completely different than the Maltese one and finally different from the Italian one so I would be in favor of the all European answer but please don't ask me what should be the answer thank you very much Mr. Bioroski thank you very much Boisek I have a question for you in in my book I describe the model named DAPREMO data protection and privacy relationships model which I consider a new approach to achieve goals in the field of data protection and privacy what do you think about could be a good way or do you have another opinion about it well first I have to decide in which heart I'm answering this question am I answering that as the European data protection supervisor if yes then I would say well it's an interesting idea that has to be taken into consideration in order to decide if it fits to the system that we created in Europe but if I'm an academic if I'm the person who works in the university at the same time and who teach the students and who thinks about the way to understand the society as it looks like it seems to be a very interesting answer for me or maybe not answer maybe path to the answer the way to to find the answers for the future so I'm happy to take part in the discussion of that but probably more like an academic I don't think if the regulators or the legislators are ready for such a solution at the moment thank you thank you very much I will try to stay with you and observe the discussion of course my Italian is not the best I may say I speak Spanish but not Italian but working five years with Giovanni Butarelli room in room and with all the people who are here and we have a very strong group of expats from Italy in EDPS I could let's say understand a little bit more than usually thank you so se volete fare voi qualche domanda se vogliamo andare avanti non so ripasso la palla al moderatore yes I will try to that for the next I want to take the opportunity on the next December there will be the 5G Italy the international conference and I am thinking that could be very important to have a session on the internet of things and related problems having you Nicola Fabiano and a representative from the Italian authority and probably with some other important representative from other European authorities it will be held on the next first second and third of December next December thank you very much sounds really interesting and let me just say that it was just yesterday when we published the blog post on the website of the EDPS which is about 5G which is about 5G as the opportunity and as the challenge for the data protection itself and for the privacy protection so not only to the IoT but to the whole idea of 5G I send you a special invitation of course about that and thank you though this blog post is actually written by my head of the technology and privacy team Thomas Serpik who is the specialist in this area but thank you very much okay thank you Nicola possiamo Presidente Fabiano usiamo le forme fin qui avute allora possiamo proseguire con questa seconda parte prendendo sotto esame alcuni degli aspetti che sono che sono emersi però io vorrei chiedere al presidente Nicola Fabiano perché tutti quanti stiamo discutendo da oltre un'ora e l'occasione ci è data da questo libro che è frutto di un'importante elaborazione che è stata accolta diciamo con grande affetto dai presenti ma con grande attenzione per le tematiche sollevate da primo ecco una delle novità che il libro offre è questa diciamo questa indicazione metodologica di poter rendere quantitativamente misurabile il tasso diciamo di protezione sul dato Nicola Fabiano cos'è da primo possiamo sintetizzarlo per brevi linee e dire di cosa si tratta sapendo che apre una strada nuova e che probabilmente pone sul tavolo un problema che prevedibilmente potremmo trattare in modo forse più approfondito e quindi potrebbe essere vista come una come dire una sollecitazione diciamo per elaborazioni future intanto è un punto di partenza cos'è esattamente da primo proverò a spiegarlo non è non è semplice spiegarlo così in poche parole però ci provo allora intanto da primo è un modello che è basato sulla matematica allora va fatta una premessa e quindi la premessa è l'approccio matematico nella mia visione della legge questa va descritta perché se no non si capisce diversi anni fa ho iniziato a pensare ai rapporti tra matematica e diritto e in quella fase mi sono reso conto di quanto fosse necessario approfondire l'argomento ho iniziato a pensare quale fosse il rapporto corretto quale potesse essere il rapporto corretto soprattutto per quanto riguarda matematica e protezione dei dati personali sono fermamente convinto che la matematica sia rilevante quasi in ogni campo e quindi uno dei principali argomenti che ho presentato e che presento durante le mie lezioni sulla protezione dei dati personali sulla privacy è proprio la privacy differenziale che si esprime con una formula matematica questa applicazione matematica nel settore della protezione dei dati e della privacy conferma quanto sia possibile ottenere alcuni risultati e quindi ottenere il concetto più preciso e definito di protezione dei dati e di privacy a mio modesto parere si tratta di una chiave per un approccio concettuale fortemente innovativo che non rimane assolutamente teorico ma che ha dei risvolti pratici e questo dimostra l'importanza della matematica in ogni contesto anche in quello della protezione dei dati quindi da qualche anno a questa parte girando intorno all'argomento ho finalmente capito quale fosse la chiave di questa relazione da primo è come ho anticipato l'acronimo di Data Protection and Privacy Relationships Model che è il modello di protezione dei dati e dei rapporti con la privacy che appunto ho creato si basa su un'elevata un'alta matematica alta matematica e soprattutto sulla teoria degli insiemi e su un un concetto di di matematica che si chiama fibrato vettoriale o fibrato tangente allora mi muovo diciamo mi sono mosso ho descritto questo modello nel libro procedendo per gradi e quindi spiegando quale possa essere quanto possa essere utile la teoria degli insiemi per spiegare questo modello il punto nodale è questo cioè molto spesso noi non ci rendiamo conto di quelli che sono alcuni oggetti che ruotano attorno alla nostra realtà perché non li prendiamo in considerazione probabilmente perché li diteriamo irrilevanti il confronto con la protezione del dato personale e con la privacy è una nota costante nella nostra quotidianità e non possiamo farne a meno persino quando facciamo i conti con le eccezioni che escludono l'applicabilità della specifica normativa per esempio il segreto di stato o altro ancora non c'è secondo me un aspetto della nostra vita che non debba essere valutato sotto il profilo dell'impatto su privacy e data protection quindi venendo a questo modello da primo potrebbe potrei ipotizzare che le leggi sulla protezione dei dati e l'etica siano incluse in un insieme che è in relazione con altri insiemi esistenti nella nostra realtà prima facevo riferimento agli occhiali tridimensionali alla realtà aumentata immaginiamo come se guardassimo una realtà aumentata e ci rendessimo conto che a fianco a noi intorno a noi ci sono delle ipotizziamo delle sfere io le chiamo così che sono sostanzialmente degli insiemi che contengono degli oggetti è molto probabile che quasi esclusivamente probabile anzi è molto sicuro che questo accada cioè che ci sia sempre una relazione con altre realtà rispetto all'insieme della protezione dei dati e privacy io considero l'insieme protezione dei dati personali e privacy siccome una sorta di contenitore all'interno del quale ci sono le norme c'è tutta la disciplina in materia di protezioni dati personali e privacy ovviamente è incluso in questo insieme all'interno di questo insieme c'è anche l'etica che costituisce un elemento esogeno perché è straneo rispetto alla parte normativa non c'è una norma specifica sull'etica ma l'etica e le norme sulla protezione dei dati personali sono legati da proprietà comuni per cui possono essere considerati all'interno dello stesso insieme quindi facendo questa riflessione cioè considerando sostanzialmente altre realtà che ruotano attorno alla nostra attorno alla sfera della protezione dei dati possiamo certamente individuare dei collegamenti o con gli oggetti che sono contenuti all'interno di un insieme oppure direttamente possiamo individuare delle relazioni tra i singoli insiemi per esempio per essere più più concreto per essere più pratico se penso ad una attività tipicamente burocratica quale può essere quella svolta all'interno di una pubblica amministrazione in un certo ufficio in un certo settore di una pubblica amministrazione è chiaro che lo svolgimento di un certo tipo di attività costituisce è costituito da una sequenza di processi perché ci sarà la fase dell'acquisizione di un'istanza faccio un esempio così ci sarà la fase dell'istruttoria ci sarà la fase conclusiva provvedimentale per cui questi processi secondo me possono essere considerati all'interno di un insieme e all'interno di questi processi c'è sicuramente un riferimento alla protezione dei dati faccio un altro esempio immagino un'attività di business di una società che appunto fa business e all'interno diciamo dei processi che vengono svolti da questa organizzazione ci sono sicuramente dei legami con la protezione dei dati personali quindi si creano ulteriori insiemi ora io considero ma questo detto in maniera molto molto sintetica ovviamente nel libro è descritto il tutto è descritto in maniera molto dettagliata con dei riferimenti anche matematici che giustificano tutto questo percorso concettuale io immagino una relazione esistente tra l'insieme protezione dei dati e privacy e tutti gli altri insiemi che appartengono alla nostra realtà quotidiana tendenzialmente si va all'infinito perché si possono creare delle relazioni con una infinità di insiemi che sono presenti nella nostra realtà per spiegare per cercare di rendere comprensibile questo concetto che poi matematicamente è espresso con un fibrato vettoriale un fibrato tangente un concetto complicato che diciamo i giuristi probabilmente non conoscono io spiego tutto questo cercando di presentare questo questo approccio come se fosse un libro le cui copertine la copertina anteriore la prima di copertine diciamo la copertina la front cover è la copertina quella che chiude il libro si apre a 360 gradi e le copertine combaciano tra di loro avremo una sorta di cilindro chiamiamolo così per capirci però con una caratteristica che tutte le parole che sono contenute all'interno di ogni pagina di questo libro si intersegano tra di loro attraverso dei segmenti chiamiamoli segmenti cioè vengono le pagine diciamo così trafitte da un da un segmento che costituisce il legame tra una parola e un'altra graficamente può essere molto simile ad una spazzola per capelli ad una spazzola di quelle rotonde dove il fusto rappresenta l'insieme data protection e le singole setole che si intersegano tra di loro sono esattamente costituiscono esattamente i punti di intersezione di congiunzione tra l'insieme data protection e gli altri insiemi o i singoli oggetti che si trovano nella realtà mi rendo conto che è abbastanza complicato entrare in questo in questo in quest'ottica avere un approccio di questo tipo però ritengo che sia una sia un viatico un tentativo innovativo molto interessante perché una valutazione un approccio di questo tipo consente una valutazione molto più completa io faccio sempre l'esempio di chi guarda una situazione da una finestra e di chi può guardarla da un terrazzo o addirittura da un aereo da un drone ha una visione diversa ha una visione molto molto più ampia quindi questo strumento questo modello serve ad avere una visione molto più ampia di un di un certo fenomeno per essere ancora più completi più concreti cerco di spiegarlo così se dobbiamo fare un'analisi di un certo fenomeno per esempio dobbiamo approfondire un una certa applicazione per capire quale possa essere l'impatto in materia su privacy e protezionati personali se ci fermassimo a guardare la semplice applicazione otterremo un risultato molto riduttivo perché guarderemmo quell'applicazione in realtà quell'applicazione non è non esiste da sola ma ha dei legami con altre situazioni che appartengono alla realtà non scendo nel dettaglio ma è facile immaginarlo che possono essere relazioni anche assolutamente tecniche trasferimento di dati da un server ad un altro da uno smartphone da un device ad un server e così via dicendo se io riuscissi ad avere una riuscissi a effettuare un'analisi più approfondita per esempio di questa applicazione con questo utilizzando questo approccio che è all'interno del modello io ritengo che si possa avere una valutazione molto più ampia tale da consentire una una come dire un un esame un'analisi più più molto più convincente e molto più preciso allora qualcuno probabilmente mi chiederà quali potrebbero essere gli effetti pratici io ritengo che gli effetti pratici ne possano ne possano scaturire diversi perché abbiamo possiamo avere effetti sia cioè quale può essere l'utilizzo pratico l'utilizzo lo possiamo avere sia da parte di una autorità di controllo che può utilizzare il modello e fare un'indagine molto più dettagliata quando si trova ad affrontare una certa situazione deve fare un'istruttoria è uno strumento che è certamente valido anche per il titolare del trattamento è uno strumento che è valido anche per l'interessato quindi perché si ha disposizione chiaramente non l'interessato non dovrà impazzire per cercare la soluzione matematica ma si tratta di avere un approccio innovativo con un modello che consente di avere un quadro molto più chiaro e più esteso di tutta la realtà io non so se sono stato capace di esplicitare il modello in queste poche parole ci ho provato e non è semplice nel confronto con alcuni colleghi con i quali ho avuto modo di parlare ho potuto rilevare che c'è difficoltà perché si tratta da un lato si tratta di uno slancio come dire concettuale importante perché siamo abituati noi giuristi ad avere un certo tipo di approccio alle questioni che sono tipicamente giuridiche quindi da un lato c'è bisogno secondo me di avere la disponibilità a valutare questo tipo di soluzione dall'altro lato mi rendo conto che una definizione per così dire una descrizione che possa essere molto vicina ad aspetti della matematica può creare disorientamento però è solo una impressione iniziale poi basta diciamo soffermarsi un pochino avere un po' la pazienza per soffermarsi su questo tipo di approccio e io sono convinto che diventerà subito molto più familiare e più chiaro bene grazie Nicola Fabiano avrò un'ultima domanda tra pochi attimi ed è una domanda che riguarda il lancio di palla finale del libro ovvero il dopo il futuro e parlando di futuro quando si parla di futuro la prima cosa che viene in mente è chi sono i giovani i ragazzi cioè sono loro e il futuro Vincenzo Colarocco ha citato prima le scuole proprio con questa con questa logica con questo contesto mi pare di aver avvertito quindi vorrei fare una piccola domanda un po' provocatoria a Rocco Panetta e Vincenzo Colarocco prima di passare a quell'altro aspetto di futuro del libro di Nicola Fabiano se pensiamo alle nostre scuole proprio parlando di opportunità e di consapevolezza queste due parole cardine che stanno nel titolo del libro di Nicola Fabiano e se pensiamo se guardiamo alle scuole noi abbiamo le scuole come un'entità nazionale nella quale la privacy è veramente una grande sconosciuta abbiamo grandi multinazionali che fanno il giro del paese e danno gratuitamente registri scolastici abbiamo strutture di prima infanzia dove vengono aperte email a bambini di 3-4 anni senza chiedere neanche il consenso ai genitori per poter comunicare ma stiamo smarrendo e qui altro che consapevolezza e rischiamo che su alcune aree si liberano come dire insomma gli istinti più 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 come vedete voi due Rocco Panetta e Vincenzo 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 con la Rocco Raffaele grazie alla domanda è poi un tema che tocco molto da vicino avendo un bimbo piccolo al netto di questo che conosco con mano il tema e vi parlavo dell'educazione digitale è sia rivolta agli studenti ma anche soprattutto agli operatori io vedo uno spiraglio nel prossimo futuro che si collega alla domanda che tu avevi fatto prima e introdotto il tema del sovranismo digitale il progetto GaiaX il progetto GaiaX che forse è del cloud chiamiamolo europeo e con un po' la filosofia europea sulla protezione dei dati al centro delle persone potrebbe essere se sviluppato rapidamente e accolto con favore da tutti gli stati potrebbe essere ben pervaso e utilizzato all'interno della scuola alla tutela dei minori ed è un passaggio fondamentale è un passaggio fondamentale che l'Europa deve fare e deve cogliere a mio avviso questa opportunità anche e soprattutto nella guarda del risico digitale del sovranismo digitale che è in atto veramente in sintesi perché il tempo sta finendo la mia risposta quindi può essere questa educazione digitale sia per gli operatori ma educazione digitale basata sui sui cardini della privacy dell'autore della persona per gli studenti affinché si possa dare il pensiero critico per gli operatori per aumentare la consapevolezza e sfruttare anche le opportunità che dei nuovi mezzi tecnologici e accelerare dal punto di vista istituzionale il progetto Gaia X che dovrebbe il 18 e il 19 novembre darci un po' il planning dell'implementazione molto in sintesi grazie Rocco Panetta grazie Vincenzo Codarocco Rocco Panetta ma dobbiamo proprio rassegnarci all'idea di abbandonare a se stessi presidi professori interi istituti con un ministero che non dà neanche una indicazione dal maggio 2018 a oggi e questa è l'idea del futuro che abbiamo oggi ma è possibile guardi direttore il rischio c'è ed è forte perché anche nelle parole del DPS abbiamo sentito sicuramente tanti spunti importanti anche di apprezzamento rispetto a tentativi come quello dell'autorità italiana sul tema della monetizzazione o sul giudizio espresso su da premo un giudizio come dire scizzo tra il giudizio personale dell'accademico quindi della persona dello studioso e il giudizio dell'autorità io credo che sia proprio questo il problema le autorità devono ricordarsi di essere autorità cioè deve finire il tempo in cui abbattuta o seriamente ci si impiega dieci anni per prendere una decisione come vedete nel 2000 Rodotà e Buttarelli immediatamente colsero cioè cinque anni dopo l'entrata in vigore della direttiva 95-46 colsero che il problema era quello del trasferimento all'estero dei dati e andarono a Washington a obbligare questi signori a stipulare un accordo sul tema dei flussi internazionali dei dati un accordo che poi non è stato manutenuto adeguatamente ha fatto alla fine che ha fatto parlo del safe harbor ma noi passati più di vent'anni siamo ancora lì siamo ancora fermi allo stesso punto allora sentir dire che le autorità impiegheranno per discutere sul tema della monetizzazione boh tre cinque dieci anni a me mi vengono i brividi ringrazio il signore che faccio il lavoro che faccio e non sono più in autorità perché altrimenti la musica sarebbe stata sicuramente diversa quantomeno mi sarei fatto esplodere all'interno del garante per far sì che certi temi andassero in una certa direzione quindi diciamo che resto anch'io un po' preoccupato e però è chiaro non dobbiamo guarda sono tempi in cui se perdiamo la speranza su tutto siamo finiti abbassiamo la sala cinesca arrivederci grazie quindi facciamo molta attenzione verissimo non perdiamo mai la fiducia Nicola Fabiano una battuta finale abbiamo pochi minuti perché se guardiamo al futuro e pensiamo ai ragazzi che abbiamo nelle nostre case e se guardiamo al futuro di ciò che il settore ci riserva io guardo alle ultime pagine del suo libro dove si parla di neuroscienze neurobioscienze e quindi si aprono mondi nuovi sostanzialmente che cos'è che ci aspetta da questo punto di vista Nicola Fabiano dobbiamo cercare di guardare oltre di non fermarci a quello che abbiamo avanti in questo momento perché quello che è il futuro è già presente io affronto il tema delle neuroscienze facendo questa riflessione molto molto in breve sappiamo benissimo che gli scienziati utilizzano le più innovative ed elevate tecnologie che sia intelligenza artificiale robotica eccetera nelle neuroscienze nelle neurobioscienze e si stanno impegnando moltissimo per studiarne gli effetti soprattutto sull'uomo ci sono peraltro degli esperimenti fatti già anche sugli animali io ritengo che il termine ho coniato un termine che è neuro privacy o meglio questo è un termine che è già così viene è stato diffuso da qualcuno questo termine credo che sia utile per descrivere al meglio un ecosistema della protezione dei dati personali legata alle neuroscienze e alle neurobioscienze ritengo che anche in questo ambito il modello sia efficace e chiudo lanciando una provocazione su questo tema delle neuroscienze e neurobioscienze io nel libro ho descritto un approccio in termini di diritti di neuro privacy è una nuova categoria di diritti questa è una provocazione e sarebbe opportuno che non in questo contesto magari anche in un altro momento se ne possa parlare perché è un tema che ritengo importante bene sono le 17 04 abbiamo sforato di 4 minuti soltanto è un piccolo peccato veniale che possiamo consentirci abbiamo discusso del libro di Nicola Fabiano GDPR e privacy consapevolezza e opportunità seconda edizione di un lavoro che presentammo e a cui partecipai anch'io con grande onore nel scorso maggio proprio al Senato della Repubblica questa nuova edizione è un'edizione che porta avanti la sticella 252 pagine distribuite in 4 densi capitoli con tanti allegati io vorrei chiudere questo nostro evento ringraziando gli illustri ospiti che abbiamo avuto l'avvocato Carla Secchieri e l'avvocato Carolina Scarano in rappresentanza del collegio nazionale del consiglio nazionale forense e i nostri due illustri illustri discussant che sono stati l'avvocato Vincenzo Colarocco e l'avvocato Rocco Panetta e naturalmente un ringraziamento per averci messi tutti assieme intorno a un tavolo virtuale a Nicola Fabiano garante della Pragasi dello Stato di San Marino e amico e professionista stimato e conosciuto come abbiamo visto e apprezzato come abbiamo visto anche oltre confine quindi grazie a voi tutti e grazie a coloro che ci hanno seguiti e questo video sarà poi diffuso in tutte le modalità di rito attraverso la rete e anche noi cercheremo di dare un piccolo contributo per questo grazie a tutti grazie arrivederci arrivederci grazie a tutti grazie a tutti